Una serata che davvero unisce tutti. Unisce tutti noi per l'umanità e per denunciare coloro che cercano la morte. Noi tutti cerchiamo la vita buona, giusta, corretta e accanto al Signore. Stessa, insomma, inevitabilmente stessa domanda. Realmente siamo qui per dire che tutti noi qui siamo per la vita, per l'umanità e ringrazio veramente tutti i cittadini del Val d'Arno, dei sindaci, tutti quanti per questa partecipazione per dimostrare che sta vincendo il senso civile, non il terrorismo, il coraggio e non la paura. Il vostro manifesto dice tutto di questo, però è bene ribadirlo, quella che è la vostra posizione come comunità islamica val d'Arno. Questa manifestazione. Allora, noi siamo qua per dire no al terrorismo, no a ammazzare la gente con la scusa della religione, col nome di Dio. Noi siamo qua per dire no al terrorismo di qualsiasi colore, qualsiasi scusa, qualsiasi giustificazione. Ammazzare l'innocente è ingiustificato. Punto e basta. Un esempio di come probabilmente si dovrebbe ragionare tutti insieme? Sì, certo che dobbiamo ragionare insieme in maniera molto ferma nella condanna di quanto è accaduto, nella condanna di tutto il terrorismo da qualunque parte. Una riflessione però anche pacata per dare spazio alla politica, quella o alla P maiuscola, alla diplomazia, a saper guardare in positivo e a costruire ponti. E poi anche un'attenzione a chi fabbrica armi, a chi le commercia e a come le commercia, perché ovviamente anche questa è una riflessione da dover aprire e di non poco conto. Grazie.